Nottata movimentata nel parcheggio retrostandare e centro commerciale, il nuovo borgo di Sulmona, una Jeep è stata avvolta dalle fiamme intorno alla mezzanotte per cause ancora ad accertare. Sembrava una serata come le altre, fino a quando alcuni residenti della zona si sono accorti che qualcosa non andava e hanno avvertito il centralino del 115. L'auto è stata completamente distrutta dalle fiamme. Stando ai primissimi accertamenti non sarebbero stati rinvenuti sul luogo dell'incendio né inneschi né tracce di liquido infiammabile. Un particolare che allontana per il momento l'ipotesi del dolo, ma i carabinieri della compagnia di Sulmona, diretta da Capitano Maurizio Adinoguida, non escludono nulla. I militari hanno chiesto infatti delle verifiche speciali alla squadra specializzata dei Vigili del Fuoco dell'Aquila, la stessa che è intervenuta qualche settimana fa nel Cavannone Coggesa. Il sopralluogo potrebbe essere eseguito già nella giornata di domani. Non a caso il fuoristrada incendiato è stato rimosso dal parcheggio del centro commerciale e resta a disposizione dei carabinieri. E' il secondo caso di auto incendiate che balza alle cronache nel giro di una settimana fra Prato La Peligna e Sulmona.